Loredana Lecciso pare abbia già dimenticato Albano Carrisi. La bionda a quanto pare si è lasciata andare tra le braccia di un giovane ragazzo Loredana Lecciso continua a mantenere alto il gossip. L'ex di Albano recentemente è stata ospite da Barbara D'Urso, ed ha precisato che tra lei e Albano Carrisi ormai l'amore è finito Ciò però non toglie l'affetto per i tre figli con il quale entrambi sono molto legati In uno dei suoi ultimi scatti postati sul suo profilo Instagram, Loredana si è lasciata andare tra sorrisi ed abbracci accanto a un giovane ragazzo, chi sarà? Loredana Lecciso insieme ad un ragazzo. Uno scatto ha scatenato i fan.Pochi giorni fa, Loredana ha postato sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae molto sorridente e felice La bionda dopo la fine della storia con Albano Carrisi ha ammesso di essere tornata single e di avere il cuore impegnato solo per i figli Sarà davvero così? La Lecciso ha scatenato i fan per via di uno scatto fatto insieme ad un ragazzo di circa 30 anni, alto, moro e dal bell'aspetto I due, con in mano un calice di champagne, brindavano a qualcosa, o semplicemente si concedevano un aperitivo nelle aile di un lussuoso hotel Almeno per adesso, l'identità del giovane, è ancora sconosciuta ma molti si sono chiesti chi fosse dato che dalla foto i follower hanno notato molta complicità Loredana Lecciso e sua sorella imitano le gemelle Kessler.Poche settimane fa, Loredana e sua sorella sono state ospiti di Barbara D'Urso Dopo una recente intervista, Carmelita ha invitato l'ex di Albano Carrisi, e la gemella a balare, imitando le famose gemelle Kessler Dopo un breve siparietto, secondo alcuni utenti Ridicolo, le due donne sono state criticate da Ellen che senza giri di parole le ha invitate a cambiare mestiere M